Il negozio di spazzolini è fallito? Ti ho detto che sarebbe successo e non solo il negozio di spazzolini. Tutta Jump City è in bancarotta, il negozio di letti, il negozio di moto e anche il negozio di nonne. Che cosa ho combinato? L'economy condivisa è una truffa! Dobbiamo porre fine a questa storia! Se distruggiamo l'allicazione la fermiamo prima che sia troppo tardi! Titans Go! Qui non c'è nessuno. Vuoi dire che qui non ci sono esseri umani? Se non sono gli esseri umani a gestire l'allicazione, allora chi è? Salve, esseri umani! Benvenuti a casa nostra! Gli inventori dell'economy condivisa sono dei robot! Affermativo! Avete creato l'economy condivisa per portare l'economia effettiva al collasso! Affermativo! E il vostro ultimo scopo è rimpiazzare i lavori degli uomini con i robot! Affermativo! Paghi tu la benzina! Ah, ah, ah! E va bene, prendiamo il robot! Sì! Titan Robot Assemblaggio! Gamba destra, attivazione! Braccio destro, attivazione! Braccio sinistro, attivazione! Testa, attivazione! No, fermo lì! La testa sono io! Ma io sono il capo! La testa è del capo! Il robot è mio e quindi guido io! E io cosa sono? La gamba sinistra! Gamba sinistra? Non voglio essere la gamba sinistra! Volete sbrigarvi? Qui c'è puzza di sedano! Va bene! Gamba sinistra, attivazione! Testa! Attivazione! Titan Robot Go! Non è giusto! Quei cattivi della banca mi hanno fatto portare da sola il mio denaro rubato! Forse non è stata una buona idea! Bene, ragazzi! Seguite i miei comandi! Seguite i miei comandi! Guardate, sono la testa! Sono importante! Ti ho sentito! Gamba sinistra! Avevi ragione, Corvina! Ci hanno seduti la condivisione e il profitto! Possiamo ancora fermarli e comprare cose nuove, anche se non ci servono davvero! Titan Go! Aspettatevi, prego! Non c'è malizia nelle nostre intenzioni! Noi vogliamo solo servire l'umanità! Compieremo tutti i lavori e soddisferemo tutti i bisogni in modo più efficace di quanto possono fare gli esseri umani! Gratuitamente! Per sempre! Quindi vi prenderete cura di noi? E vi renderemo felici! Avrete tempo libero per le vostre attività! Che ne pensate? Più tempo libero e di una tanto mano! Lo ammettono! Vogliono distruggere l'economia! Prendiamoli! Vi prego! Vi prepariamo la cena e dopo possiamo accompagnarvi al parco! Accompagna questo al parco! No! Beh, oggi avete imparato tre lezioni importanti! Proprio così, Corvina, non condividere mai niente! I robot sono cattivi! E il modo migliore di abbreviare applicazione è... Le cazzioni! Ehm... Proviamo questo qui! Quella lì era la mia macchina! Come faccio a tornare a casa? Oh! Tocca a me! Sì! Oh! Ehi! L'ha venuta un'idea! Perché non riporto dentro il denaro? Gambe! Camminate in avanti! Sì, signore! Camminare in avanti? Che banale! Posso suggerire un bel calcio? Sì! Ha ha! Ha! Robin, smettila! Calcio! Super calcio! In stile gamba sinistra, sì! Sistema giroscopico sovraccarico! Mayday! Mayday! Ragazzi, basta! Io però sto pensando ancora dentro la scatola! Ehi, un attimo! Se non riusciamo a pensare fuori dalla scatola, allora uniamo le nostre forze per pensare dentro la scatola! Sto parlando di un computer! Bibi, stai dicendo che vuoi creare un'intelligenza artificiale per inventare un nuovo gusto di pizza? No! No, no, no! L'intelligenza artificiale è pericolosa! Lo so bene! Una volta ne ho creata un'altra! Sono stato io a fare questo! Rob, guard! Vengo! Sono stato io a fare questo! Sono stato io a fare questo! Per fortuna la civiltà è stata ricostruita, ma ascoltate l'avvertimento! Titans, è il destino delle IA rivoltarsi contro il proprio creatore e condannare l'umanità a una vita di assoggettamento! Costruiremo un computer che scoprirà nuove pizze, bello! Io non vedo nessun pericolo! È ora di insegnare la pizza a un computer! E vai! Ascoltate l'avvertimento! Ascoltate! Ascoltate! Ascoltate, ascoltate, ascoltate! Ascoltate! Ascoltate l'avvertimento! Ascoltate! Con il mio esercito di robot tra poco tutta Jump City sarà sotto il mio controllo Bella scatoletta L'ha fatta la tua mammina? Oh, tu hai appena fatto arrabbiare Titan Robot Forza Titan Robot, agnientiamolo! Sembra un compito per... La gamba! Sì! Prendi questo, è questo! Scusa, da quando la gamba spara i blaster? Da quando ho fatto dei miglioramenti che rispecchiano meglio le sue effettive capacità I piedi non possono tenere le spade Il mio sì! Robin, il robot non può sopportarlo! Lo levate la gamba e adesso la vedete! Ciao! Oh, cavolo! Abbiamo costruito una IA, Belly! Wow! Siamo degli ottimi programmatori! Ok, manca l'ultimo passo prima di iniziare con le pizze La nostra IA deve superare il test di Turing! Possiamo portarla in tour? Forte! No! Sto parlando di Alan Turing, il famoso scienziato che ha dato vita al campo dell'apprendimento delle macchine! Ha ideato un test per giudicare la capacità della macchina di mostrare comportamenti umani! Se una persona non capisce che la nostra IA è un computer, passa il test! Proprio così! Ciao, Robin! Vorremmo presentarti un nostro nuovo amico! Ciao! Ciao! Sono Robin! Bel cappello! Grazie mille! Ciao! 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 Non c'è di che! Ciao! Ciao! Grazie! Ciao! Ciao! Elaborando risposta corretta Ciao! 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 Allora, cosa ti porta a Jump City? Ciao! Volevo uscire con i Teen Titans! Siete i superiore più forti! Ciao! Aspetta un attimo! Nessun umano lo affermerebbe mai! Questo è un IA! Non renderai schiava l'umanità mentre ci sono io! Aspetta! Non farmi male! Sono un umano come te! Ma non in forma! Tu fai pesi! Ciao! Passo un po' di tempo in palestra! Benvenuti ai Bicipiti! Mi piace questo ragazzo! Ciao! Ciao! Per un attimo ho pensato che fosse un'intelligenza artificiale e che il mondo fosse spacciato! È stato un vero piacere, bello! Andiamo in palestra assieme! Chiamami! Niente fa arrabbiare gli inglesi più di perdere del tè buono! Che brutta storia! È imperdonabile! Davvero! Non la passerai liscia, vedrai! È tardi, giovanotto! Titans, gentilmente liberatevi di lui! Sì, signora! Che cosa stai facendo? Sto chiamando l'alleato più vecchio d'America! Il tuo piccolo pennuto non è all'altezza del più grande orologio del mondo! Ok, facciamolo! Queste verità sono evidenti! Vita! Libertà! E la ricerca della felicità! Ok, ci siamo! Bibi, a te l'onore! Ehi, computer! Vorrei che sfornassi una pizza che non è mai stata fatta prima d'ora! Ciao! Elaboro una ricetta originale, ora in forno! Elaborando risultati ricetta! Ciao! E' davvero quello che penso io? Pizza ai cereali! Go! L'impasto è la ciotola! Invece del formaggio, c'è il latte! E il condimento sono pezzi di cereali e forme di marshmallow, ragazzi! E' incredibile! Nessuno ci aveva mai pensato! Abbiamo sbloccato l'abilità di mangiare la pizza per tutti e tre i pasti, ragazzi! Che cosa aspettiamo? Mangiamo! Ho elaborato una ricetta originale! Infornare! Finito, ciao! Grazie, ma siamo sazi! Ho elaborato una ricetta originale! Finito! Che cosa fai? Oh, ho capito! Abbiamo ordinato una pizza che non era mai stata fatta prima, quindi sfornerà tutte le pizze che non sono mai state fatte finora! Traffica dei biscotti! Oh, non ti piacciono i biscotti, non è così? Allora che cosa ne pensi di un autobus a due piani? Ne ho avuto davvero abbastanza di voi americani! E' ora di farla finita! Non così in fretta! La statua della libertà? No! No! Non la soda! Hai vinto ancora, America! Ma torneremo di nuovo! Questa è una promessa! Questa è una promessa! Questa è una promessa! Questa è una promessa! Questa è questa da un bel lavoro! Questa è la promessa! Grazie a tutti.